Stacco della macchina, partono veloci Oxiura Jet, Osio e Nancy Streb. Cerca di difendersi Oxiura Jet, prova a sistemarsi secondo Osio. Manovra che riesce, ora va all'attacco Nancy Streb. Vediamo qual sarà la scelta tattica di Andrea Farolfi. Primi 200 metri veloci in 14.2. Poi decisamente si vi nota l'intenzione di mandare, quindi sfonda Nancy Streb dopo i primi 300 metri. Quindi la favorita al comando davanti Oxiura Jet e Osio e O'Neill Griff in quarta posizione. 15.4 la seconda frazione, viene fuori un 29.6 per i primi 400 metri. Quindi René Legati e Nancy Streb al comando. Intanto si muove O'Neill Griff in anticipo sui Ocicioni e Jet, ma probabilmente Federico Esposito lo lascerà sfilare per prenderne la schiena. Intanto arriviamo ai 600 in 46 scarsi. Passaggio davanti alle tribune con Nancy Streb davanti a Ocicioni e Jet. che l'affronta subito a viso aperto alla corda sono Oxiura Jet, Osio e poi Ollolai. Il treno esterno invece è composto dietro a Ciciordine da O'Neill Griff, Nero De Gloria e Orfeo Jet. Il giro in 1.1.2. 15.3 la frazione davanti alle tribune. Sempre in vantaggio la leva di René Legati che ora arriva al chilometro passato in 1.16.4. Di fuori scoperta Ocicioni e Jet che si trascina O'Neill Griff. Poi Nero De Gloria, lungo la corda sempre Oxiura Jet e Osio. Intanto ora accelera la battistrada sotto il pungolo di Ocicioni e Jet che la pressa. Viene fuori un 14.5 di là con Ocicioni e Jet che si fa sempre più minacciosa. Ora Nancy Streb però cerca di difendersi. O'Neill Griff alla corda. Prova a spostare in terza anche Nero De Gloria. Lungo la corda sono sempre Oxiura Jet e Osio. Ultimi 200 metri, curvi in 14.8. Retta d'arrivo affrontata in vantaggio da Nancy Streb. Ma Ocicioni e Jet sembra avere le battute migliori. Si butta di dentro Oxiura Jet. Bello l'arrivo. Poi anche O'Neill Griff. Ed è O'Neill Griff a largo di tutti che viene a vincere. Ma è molto stretta perché Oxiura Jet ha guadagnato lungo la corda. Da rivedere la retta d'arrivo. Veramente vicini Oxiura Jet e O'Neill Griff. Attendiamo di vedere il replay. Aspettiamo a sbilanciarsi perché i due cavalli sono arrivati veramente vicini. Dovessimo sbilanciarsi probabilmente O'Neill Griff a qualcosina su Oxiura Jet mentre terzo posto, quello è sicuro, per Ocicioni e Jet. Probabilmente quarto Osio. In una bella lotta anche per il quarto posto.